Ciao ragazzi, seguiteci anche su Twitch, il link è in descrizione. Buona visione e come sempre, viva Zeromik! Che cosa ci facciamo qui, Son Goku? Aspettiamo il nuovo arrivato di FighterZ, gli diamo il benvenuto! E sarà un altro Goku? Beh, no, non credo. Avvisatemi se sarà un altro Goku. Ci stavate aspettando per caso? Aridaie, son tornate le lesbicozze! Oh che due palle! Noi non siamo lesbicozze! A dire il vero, un pochino sì. Taci, Kale! O preferisci essere punita come la scorsa volta? Preferirei di no, ecco. Ho ancora il culetto che mi brucia, sorellona. Quindi i nuovi personaggi dell'espansione siete voi due? Beh sì, ma anche no! Capito? Francamente me ne sbatto il cazzo! Queste due vanno messe in riga come dico io. State a cuccia. Vi conviene, Nabbe. Wow, ci hai chiamati Nabbe? E invece finiremo prima in classifica dopo le mazzate che prenderete. Hanno fatto pesce a pesce in versione donna! Si sono fuse grazie agli orecchini Potara, razza di stordito! Vi spediremo a piagnucolare a casa dalle vostre mamminile! Ha! Ecco la prima cazzata! Mia mamma è morta! Ah! 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 Io sono dalla parte dei gay! È ora di spedire voi mortali all'inferno! Posso prendere io questo Goku? Vai! Procedi pure! Grazie, Kiké! Ci sono anch'io! Questo farà male! Ma io vorrei l'avessero fatta a me! Due anni fa, quel tossico merdoso che chiami figliolo ha detto che saremmo diventate un'espansione. Abbiamo un conto in sospeso anche con lui, vero Kale? Dicci dove si trova! Non ne ho idea! Sa solo che sta lottando con un tizio nero! Questa... Mi è uscita male o sbaglio? Beh, non importa! Ce ne occuperemo più tardi! E ora... Che cosa facciamo? Limonata! Ok! Ragazzi, potete smetterla! Si stanno eccitando persino le mie costole ronde!